di vino con un panino la felicità nanananana oh eccoci qua amici di paoletti buongiorno e ben ritrovati nella nostra norcineria tosco pugliese per chi ancora non mi conosce io sono alessio paoletti e sono l'ideatore di questo locale oggi vi voglio parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore ovvero la felicità purtroppo come sapete sempre più persone oggi non si possono più permettere nemmeno di uscire la sera e mangiarsi un panino con un bicchiere di vino vuoi perché hanno perso il lavoro vuoi perché hanno perso la casa insomma per fare vicissitudini che l'hanno portati a vivere in queste condizioni allora mi è sembrato carino creare questa iniziativa e dare la possibilità anche a queste persone una volta alla settimana diciamo il lunedì sera di andarsi a mangiare un panino con un bicchiere di vino quindi venire da noi a mangiarsi il panino con un bicchiere di vino grazie a voi a voi che ci state ascoltando in che modo io ho chiamato questa iniziativa ad hoc a un panino a distanza guardate è semplicissimo basta che veniate qua a mangiare oppure semplicemente se vi trovate a passare dal mio locale lasciate la vostra offerta quindi lasciate pagato un panino con un bicchiere di vino e quindi contribuite anche voi con questo piccolo gesto a rendere felici queste persone che oggi purtroppo vivono in queste condizioni se ti piace questa iniziativa se vi piace questa iniziativa condividete questo post sui vostri profili facebook ricordate che il nostro locale si trova inviato allo lembo 18b quindi vicinazze del policlinico cliccate mi piace sulla nostra pagina e seguiteci sempre che altro dirvi vi auguro una buona giornata tanta felicità cin cin e a presto